La questione dell'aumento dei biglietti del trasporto pubblico locale continua a tenere banco e si annuncia a 1 agosto all'insegna delle polemiche. Dal primo del mese infatti entrerà in vigore il nuovo tariffario che prevede rincari tra il 10 e il 12% in quasi tutte le voci di spesa. La questione è divenuta rapidamente politica dopo che il governatore Gianni, di fronte alle critiche del Comune di Firenze e non solo, ha risposto in sintesi che se i comuni vogliono avere voce in capitolo devono partecipare alle spese. Così oggi è Matteo Biffoni, in qualità di presidente di Anci Toscana, a dare una voce solo ai territori. Non si possono liquidare le legittime richieste dei comuni per avere un servizio che doveva crescere ed ampliarsi, ha detto Biffoni, che ha ricordato come sulla gara d'appalto avesse già espresso perplessità a suo tempo, anche se in solitudine. Era proprio il bando, ha detto ancora, che prevedeva il miglioramento di un servizio così essenziale, soprattutto per i comuni più piccoli e lontani. E questo non mi pare proprio sia successo. Quindi, esattamente come schetterà il rincaro di biglietti e abbonamenti, chiediamo il rispetto integrale delle previsioni del bando di gara e quindi, allo stesso modo, l'adeguamento del servizio. Il tavolo di confronto tra comuni, regione e autolinee toscane, dunque, si preannuncia infuocato, anche perché i cittadini e le associazioni di consumatori sono sul piede di guerra. Ma quanto costa il nostro servizio rispetto al resto d'Italia? Confrontando alcune grandi città, Firenze, ma il prezzo è lo stesso anche per gli altri capologhi di provincia in Toscana, si trova a metà tra Milano e Roma, al pari di Napoli, almeno sul biglietto urbano ordinario. Sul fronte abbonamenti, tuttavia, le cifre aumentano anche oltre quelle delle altre città prese in esame, già sul mensile e ancora di più sull'ordinario annuale, che in Toscana costerà 342,80 euro, rispetto ad esempio ai 2,35 di Napoli o ai 300 di Bologna. Differenza ancora più ampia sulle agevolazioni, che cambiano molto dal luogo al luogo, prendendo in esame soltanto quello per gli studenti e senza l'ulteriore sconto Isee, Firenze risulta tra le più care d'Italia. Anche la varietà di tariffe ridotte cambia da città a città e su questo il primato spetta senz'altro a Milano, dove si può accedere a sconti anche molto ingenti se si è giovani sotto i 30 anni, anziani sopra i 65, a basso Isee, studenti serali senza limite d'età, minori in affido, famiglie con tre o più figli a carico e infine disoccupati, per i quali il costo dell'abbonamento annuale è di solo 50 euro.